È tutto tuo, piccolo Topolino! Caspiterina! Topolino! Lo spettacolo può cominciare! Mamma oca, Clara Bella! Non sai quanto sono felice di vederti! Mamma oca, Clara Bella! Oh, quanto siete carini! Oh, ma che cosa è successo? Come mai siete tutti così piccoli? Ecco, vedi, c'è stato un piccolo incidente con la macchina del tempo tic-tac e... Oh, va bene così, Pippo! Non importa com'è andata, perché sono immensamente felice! Questi piccoli tesorucci saranno perfetti per il mio spettacolo di filastrocche! Possono partecipare tutti! Forza, andiamo al teatro del parco di Topolino! Bene, piccolini e grande Pippo! Ricordate, mentre canto le mie filastrocche preferite, voi vi divertirete a interpretare le storie che racconterò! Pronti? Oh, sì! Mamma oca, Clara Bella, è orgogliosa di presentare tante belle nuove filastrocche e la sua compagnia di baby talenti! Attaccate, ragazzi! Mamma oca è scesa fin qua giù con il suo hey diddle diddle e del cocodoodle do! E ora, iniziamo questo spettacolo con una delle mie filastrocche preferite! Un, due, è una delle scarpe due! Una, due, è una delle scarpe due! Oh! Oh, monello di un Pluto cucciolo! Niente paura! Recuperò io quella vecchia scarpa! Oh, Pluto! Facciamo cambio! Ti do una palla rimbalzante per la scarpa puzzolente! Oh, grazie, Pippo! E adesso ricominciamo con un, due, è una delle scarpe due! Un'altra volta, prego! Un, due, è una delle scarpe due! Tre, quattro, bussano tutto ad un tratto! Cinque, sei, contate, amici miei! Quanti bastoncini ci sono, ragazzi? Contiamoli insieme! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Mettete lì, lì sotto! Nove, dieci! Ben fatto, amici! Coraggio, cantate con noi! Un, due, è una delle scarpe due! Tre, quattro, bussano tutto ad un tratto! Chi è? Cinque, sei, contate, amici miei! Sette, otto, ecco lì lì sotto! Nove, dieci! Voilà! Ben fatto! Urrà! Edviva! La casa di Tupolino a Disney Junior Quattro! 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 Pross Taylino a Disney Junior